Questo matrimonio me lo aspetto ubriachi, deve essere divertente ragazzi. Questo sarà sicuramente un matrimonio serio, lo è, è un matrimonio serio. Ho ancora su whatsapp un messaggio mandato a Benny il 9 aprile 2017, il messaggio dice sono uscita col servista, non è assolutamente il mio tipo, è pure un po' cotascio, te lo devo dire. Però, però è una persona molto costa, non ha decata praticamente una. Non ti farò delle promesse, non ti promesso di essere quello che non posso essere. Conosco la felicità da quando mi sono accorto di amarti. Sei la mia serie preferita, la mia canzone preferita. La mia squadra è la domenica pomeriggio, la mia opera preferita. Il mie cereali al mattino e il cuscino alla sera. Sei tutto ciò che c'è di distante diverso da me, ma incredibilmente vicino a me. Grazie a tutti. Grazie a tutti.